Vittorio, una brutta notizia. Dimmi. È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo. È morto? Maurizio. Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo. È terribile. Eh sì. È morto nostro padre, tuo padre, il padre, l'inventore di questa televisione, con tanti ospiti, con diverse voci. Un grande maestro. È proprio così. Puoi più parlare. Vittorio, tu sei stato... Io se penso a Vittorio Sgarbi, ero ragazzina, mi ti ricordo da Maurizio. Ti ho visto lì le prime volte. È lì che è nato il tuo personaggio televisivo.